Salve, la parola chiave di oggi è potere. Una delle parole più utilizzate sicuramente nel linguaggio della vita pubblica nel nostro Paese. Vediamo di approfondire questo tema partendo da quello che ci dice la dottrina, la dottrina dei rapporti politici, del funzionamento dei regimi politici, in particolare di quelli democratici, ci dice una cosa molto semplice. Il potere sta nel prendere decisioni, il potere lo esercita chi prende decisioni, il potere politico equivale a prendere decisioni. Quindi è qualcosa che avviene all'interno del sistema politico e si concretizza in leggi, atti amministrativi, atti del governo e così via. Questo è il potere. Nell'arena pubblica invece il potere ha un'ampia gamma di significati che dobbiamo osservare attentamente perché sono a mio parere molto fuorvianti. Intanto il linguaggio del potere. Come viene usata questa parola nel linguaggio comune, nel linguaggio di tutti i giorni, sui giornali, in televisione, da parte dei leader politici? Per esempio una persona di potere, di solito un uomo di potere, perché potere ha molto a che fare con l'essere maschi, il potere opprime, siamo i senza potere, questo dall'altra parte, i palazzi del potere, di solito ho scritto con le maiuscole per dare più enfasi a questo termine, Il potere logora oppure non logora, il potere si prende, il potere si perde, il potere si condivide, si cede, si distribuisce, il potere si combatte. Quindi vedete che ci sono moltissime accezioni, significati e forme con cui il potere viene articolato nel discorso pubblico. Anche le immagini però sono interessanti. Il potere che ci schiavizza, il potere appunto che si prende nei palazzi, come il palazzo d'inverno, ma più modestamente c'è il palazzo del potere di Montecitorio, in questo caso. Di fronte al potere ci si inchina, il potere fatto di circoli ristretti, segreti che decidono sulle nostre vite, il potere è un soggetto che addirittura può essere intervistato, il potere può essere combattuto. Ecco, queste espressioni, queste immagini, che cosa ci dicono? Che il potere viene trattato, discusso, presentato come una cosa, come un soggetto, come un luogo fisico, come un bene che si può accumulare, si dà, si toglie, che si ha o non si ha, sia il potere oppure non si ha il potere. Queste sono le rappresentazioni correnti del potere nella vita pubblica e questo, a mio parere, è un problema. Perché? Perché quando ci si va a chiedere i cittadini col potere che hanno a che fare, col potere politico così inteso che hanno a che fare, per la dottrina i cittadini votano, chiedono attraverso il voto in altre forme, protestano, esercitano pressione, cioè fanno lobbying perché i loro interessi legittimi vengano presi in considerazione, cercano di farsi ascoltare da chi esercita il potere, cioè da chi prende le decisioni. Per il senso comune, i cittadini sono più che altro vittime del potere, oppure beneficiari del potere. Queste sono un po' le rappresentazioni e i significati che ci vengono offerti. Io penso che sarebbe il caso di guardare in modo un po' diverso al potere, guardare in modo più preciso e approfondito. E basterebbe domandarsi, per rispondere a questa questione, se invece non possiamo guardarlo diversamente, se invece il potere non fosse una cosa, un luogo, un soggetto, un bene materiale, addirittura come se fosse un ammontare di soldi, ma fosse invece una relazione, cioè fosse la capacità di incidere sulla realtà, sul corso delle cose, sui comportamenti di altri soggetti. La ricerca scientifica ci offre tantissime definizioni e concettualizzazioni che ci dicono questo. Qui ce ne sono due, ma ne potrebbero essere citate tantissime. Max Weber diceva che il potere, che è differente dal dominio, dalla potenza, eccetera, è la possibilità di trovare obbedienza a un comando. Norberto Bobbio, con la sua semplicità che andava al nocciolo delle cose, diceva che il potere è la capacità di un attore A di influenzare il comportamento di un attore B. E quindi se il potere è una relazione, non è una cosa, non è un luogo, non è un bene, eccetera, eccetera, questo ci deve far riflettere su quelli che sono i poteri dei cittadini quando si organizzano e agiscono collettivamente nella vita pubblica, su questioni di interesse generale. Credo che ci siano diversi poteri che i cittadini esercitano in quanto tali nella vita pubblica e qui di seguito c'è qualche esempio. Il potere di informare, cioè di produrre informazioni sulla realtà, su situazioni sconosciute o sottovalutate oppure nascoste, per esempio sullo stato degli edifici scolastici, la loro situazione di rischio, che non viene conosciuta perché i poteri pubblici non hanno ritenuto per molti anni di renderla pubblica. I cittadini producono informazioni, pensate alla terra dei fuochi e a quello che è emerso nella terra dei fuochi grazie all'iniziativa civica. Il potere simbolico, cioè il potere di cambiare le coscienze, rovesciare il senso comune. Il Disability Pride è un bel esempio di una capacità di usare i poteri dei simboli che cambiano l'atteggiamento generale, i comportamenti generali nei confronti, in questo caso, della condizione di disabilità. Non dimentichiamo che in alcuni decenni fa, anche in Italia, le persone con disabilità venivano tenute chiuse in casa perché ci si vergognava. Questo significato si è completamente rovesciato grazie all'esercizio del potere simbolico. Il potere materiale, aprire porte, abbattere barriere, per esempio barriere architettoniche. Beh, magari non fatelo col piccone, si può fare anche in altri modi. Creare strutture, organizzare servizi di tutti i generi, come quelli ad esempio che riguardano le donne a rischio di violenza o le persone in condizioni appunto di disabilità, le persone senza dimora e così via. Potere materiale, quindi. Potere istituzionale, far funzionare le istituzioni secondo la loro missione e non secondo altre logiche. Ci potrebbero essere tanti esempi, dall'organizzazione dei servizi, gli orari degli uffici, ma io voglio fare qui un esempio più rilevante. Quello delle associazioni delle vittime delle stragi. In molti casi, come nel caso della strage di Piazza della Loggia a Brescia, anche se dopo 43 anni, alla fine la giustizia ha emesso i suoi verdetti, cinque processi, ma la sentenza alla fine è stata definitiva. Questa sentenza non ci sarebbe stata. Se per 43 anni l'associazione delle vittime della strage di Brescia, che si chiama Casa della Memoria, più importante, non avesse esercitato il suo potere di costringere le istituzioni, in questo caso la giurisdizione, ma anche il potere politico, e molti altri soggetti pubblici che erano coinvolti in questa strage, nel suo depistaggio, a fare quello per cui erano nel loro ufficio. Potere di partnership, cioè un potere di imporre una unità di intenti per fronteggiare problemi pubblici. Il modo in cui in Italia è stata trovata una conciliazione tra l'esigenza di tutela dell'ambiente, della salute e l'esigenza di tutela dell'occupazione e del diritto di impresa, è un esempio. A un certo punto, molti anni fa, i cittadini, organizzazioni ambientaliste, i sindacati, le imprese sono stati convocati, è proprio il caso di dirlo, per mettersi d'accordo sul fatto che non ci poteva essere una contraddizione tra la tutela dell'ambiente e la tutela dell'occupazione. E allora non era per niente scontato. Oggi lo diamo per scontato, anche se è difficile realizzarlo. Potere di legittimare. Quando i cittadini si organizzano, operano nella scena pubblica, godono di un alto livello di fiducia pubblica, come dimostrano tutte le ricerche, e questo dà a loro un potere di legittimare soggetti, comportamenti, situazioni. E' la ragione per cui le amministrazioni, che pure sarebbero legittimate dal voto degli elettori, cercano di intrecciare relazioni con le organizzazioni di cittadini. E' la stessa ragione per cui lo fanno anche le imprese private, attraverso attività più o meno serie di relazioni con le forme organizzate di cittadinanza. Abbiamo quindi di fronte delle azioni che cambiano la realtà, le possiamo definire in questo modo, cioè delle forme di esercizio di poteri che cambiano la realtà. Quello che è importante rilevare a questo proposito è che queste azioni, nella gran parte dei casi, non richiedono autorizzazioni. Questi poteri che i cittadini esercitano non sono poteri derivati da qualche altro potere, delegati da qualche altro potere, ma sono poteri propri. I cittadini li esercitano in quanto esistono nella scena pubblica come soggetti che si uniscono, si organizzano per molto o per poco tempo, per un obiettivo enorme o per piccoli obiettivi, ma questa capacità di incidere sul corso delle cose, sui comportamenti di altri soggetti, è una qualità che è intrinseca a questo fenomeno. E quello che voglio sottolineare, mentre nelle rappresentazioni pubbliche, anche nella dottrina, l'esercizio del potere è correlato sempre alla disponibilità di risorse, che siano risorse economiche, che siano risorse come quelle militari, legate all'ordine pubblico e alla minaccia di usare la forza se non si viene obbediti, o la burocrazia che dovrebbe organizzare la vita pubblica, ma anche il potere dei media di produrre informazioni, ecco, questi poteri vengono esercitati senza queste risorse, o per lo più senza queste risorse. Sono poteri propri, questa è la cosa importante. Per concludere, possiamo dire semplicemente che se il potere fosse fisicamente collocato in palazzi da conquistare, come forse era cento anni fa, o era anche in tempi più ravvicinati, quando per fare un colpo di Stato bastava prendere tre, quattro posti chiave della vita che regolavano, la vita del paese, adesso non ci sono più palazzi da conquistare. Se ci fossero forse sarebbe più semplice, ma questo è anche un vantaggio, un'opportunità nella società di oggi, in cui il potere non è fatto di palazzi da conquistare, conquistare, c'è molto più spazio, ci sono molte più opportunità e possibilità di effettività, come gli esempi che ho dato ci dicono, di esercizio di poteri da parte dei cittadini. Questo è tutto per oggi. Grazie.